Mister, sette minuti di recupero, forse anche qualcosa in più sembrava non arrivasse mai questa prima vittoria. Sì, abbiamo sofferto bene, rischiando poco nel secondo tempo, però lo spirito è questo. Io avevo detto che se avevano chiamato Luiso, io voglio la squadra battagliera. Se non si lotta, se non si soffre, è inutile che sono venuti a Chiette e oggi me l'hanno dimostrato. Hanno giocato una gara aggressiva, questa è una squadra che ha paura di giocare. Chiette che non vince da otto o nove giornate, non è facile pure per i ragazzi. Li ho visti contenti e io sono contento per loro. Poi il Chiette è stato bravo a capitalizzare tutte le occasioni, il Vasto Girardi fino al momento del rigore aveva giocato una singola gara. A loro giocano sempre su tutti i campi, gli faccio i complimenti, non l'abbiamo preparata così. Loro fanno girare bene la palla, giocano molto col play, hanno questi lanci lunghi, sono pericolosi sugli esterni. Abbiamo rischiato su palla inattiva perché loro sono molto bravi, potevano farci colla, probabilmente ci ammazzavano su pronti via. È stato bravo il nostro portiere, però poi io penso che siamo stati bravi a gestire la gara, andare in vantaggio. Penso alla prima occasione che siamo andati di là, è stato bravo Mercurio a prendere i cori, però poi abbiamo avuto la gara sotto controllo. Abbiamo fatto il 2-0 subito, ci hanno fatto il 2-1 che poteva sicuramente ammazzare i ragazzi. Perché ti ho detto mentalmente con questo clima io veramente vi faccio i complimenti perché sono stati superlativi. Parossalmente appunto parlando del clima, i tifosi sono arrivati intorno al ventesimo del primo tempo, però è stata quasi una sorta di sveglia. Certo, certo. Più o meno dal ventesimo che abbiamo iniziato a giocare. Però come ti ripeto, io al di là del calcio ho giocato, io volevo vedere ragazzi nuovi che non hanno mai giocato. Vedi Mazzei, vedi Marino, volevo vedere l'atteggiamento, il carattere, la voglia, l'aggressività e me l'hanno dimostrato tutta la settimana. Tutta la settimana. L'abbiamo preparata bene, era questa la gara e ci doveva girare un po'. Ci è girato e adesso bisogna continuare perché non abbiamo fatto niente. Ecco appunto bisogna continuare per chiudere questo finale di stagione. Cosa è lecito aspettarsi? Sappiamo che è una piazza che chiede tanto. Intanto abbiamo vinto noi, abbiamo perso tutti quelli là sotto e se non sbaglio siamo a più otto, se non erro. E questa è la cosa importante perché in questi campionati, in questa stagione me l'hai detta, ti puoi ritrovare pure risucchiato sotto. Però come ti ripeto, oggi era importante fare una vittoria. Che c'era il tasto Girardi o c'era un'altra squadra, noi dovevamo avere questo atteggiamento. Questa è una squadra che deve combattere sempre perché questo è un pubblico esigente, una piazza esigente. Io lo sapevo, però nella vita non bisogna avere paura. Io non sono uno che ha paura. Io ho paura solo della morte. Un segnale poi molto forte per l'ultimissima. Tutto l'abbraccio della panchina al gol di Falle e anche la dedica a Massavud. Questo è importante perché hanno dimostrato che sono un gruppo, venivano, stiamo facendo sicuramente fatica. Però io ho detto che non si può sempre attaccare la società. Fate qualcosa, ma per voi stessi. Perché è facile, perdiamo, perdiamo. La colpa è dell'allenatore e la colpa è della società. Mettiamoci un po' di orgoglio. Sono contento, ho visto carattere. Carattere